Ci sono certe auto che rappresentano una vera icona intramontabile per tantissime persone, ad esempio l'Alfa Romeo Giulietta, ebbene, inizia la nuova fase, ecco la nuova, ci sono certe a chi la sognava potrebbe iniziare a fare presto il famoso countdown, il conto alla rovescia, per tornare a goderne appieno, se ne parlava, e ora sembra tutto vero, riecco l'amata Giulietta, siete pronti a tornare a godere nella guida della nuova Alfa Romeo Giulietta? A quanto pare non manca molto per poter tornarci su, la nuova deadline, stando ai rumors, ed avv, se non ci fossero cambiamenti e stravolgimenti ad oggi inattesi, per la nuovissima Alfa Romeo Giulietta il ritorno potrebbe avvenire nel 2000, ma che cosa ci si deve attendere al riguardo? Come noto, non più tardi di un biennio fa l'edizione, ultima in ordine di tempo, della Giulietta aveva salutato tutti, la fidanzati, ma che cosa ci si deve attendere al riguardo? Come noto, non più tardi di un biennio fa l'edizione, è stato quello l'anno in cui l'Alfa Romeo Giulietta, terza serie, è finita fuori dai piani di produzione, per non farla rimpiangere era a par salato, ma non pare essere bastato, evidentemente qualcosa a livello di vertice deve essersi smosso e in modo anche parecchio decisivo, come se per effetto di una lunga analisi sia venuta a galla la Giulietta come investimento necessario, un veicolo iconico, conosciuto, riconoscibile, da ci sono stati rumores al riguardo di possibili commistioni, in una sorta di quarta versione della Giulietta che darebbe filo da torcere al mercato presentandosi come un mix tra suve, ma cosa c'è di vero? Sembra abbastanza consistente la presenza di un piano specifico, imprenditoriale e produttivo, per il varo di una Giulietta numero 4 per il 2020, ci sarebbero bozze e piani con l'idea è quella di una vettura elegante e potente fino a 300 cavi, certo, dopo circa 70 anni dalla nascita del primissimo modello, la 4 gradi Giulietta dovrà avere qualcosa di diverso se si pensa ai primi modelli, data a T 1954 e all'ultimo del 2020, molte sono state le trasformazioni, voci da confermare addirittura danno l'arrivo a una, se si pensa ai primi modelli, data a T 1954 e all'ultimo del 2020, molte, quel che è certo è che la più bella e iconica delle Alfa Romeo non dovrebbe restare nella soffitta delle produzioni ancora molto a lungo e che, appunto, un quinquennio di stand-by sia anche troppo, quel che è certo è che la più bella e iconica delle Alfa Romeo non dovrebbe restare nella soffitta delle produzioni ancora molto a lungo e che,